Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video, come state? Spero tutto bene, questo video sarà un piccolo aggiornamento per quanto riguarda la situazione intesa a San Paolo. Ho fatto un video settimana scorsa per quanto riguardava il fatto di se fosse giusto o non fosse giusto. Ora, dopo tutta la shitstorm che mi son preso, ma era prevedibile, dato che quando tratti un argomento caldo c'è chi dice che ha ragione A, c'è chi dice che ha ragione B, ma la verità è sempre un po' nel mezzo, comunque non voglio rientrare nei meriti di quel discorso, la mia opinione è in quel video, quest'oggi vi porto un piccolo aggiornamento per provare almeno a risolvere la situazione o almeno in parte, perché sul sito dei consumatori è uscito un modulo, è uscito un modulo per poter richiedere di fermare, tra virgolette, il processo del trasferimento e rimanere in intesa a San Paolo. Quindi oggi andremo a vedere le modalità e se è possibile tornare in intesa a San Paolo, quindi direi di andare a focalizzarci subito sul sito e sul pdf, vi faccio proprio la guida completa. Quindi schermo grande ed eccoci qua, quindi primo passaggio andare sul sito dei consumatori, quindi consumatori.it, quindi servizio e tutela del consumatore, primo link. Una volta che sarete qua dentro, quindi non so quanto questo pdf possa servire, possa essere ufficiale eccetera, comunque una volta qua dentro, comunque qua settori più segnalati della settimana, banca chissà come mai, andrete su non perdi queste notizie, banca intesa, trasferimento forzato Easybank. Qui cosa vedete? Vedete tutto quello che è successo, quindi il racconto, che comunque se volete leggere lo leggete, ma la parte succulenta è questo, il modulo di reclamo compila lo invio a banca intesa a San Paolo, schiacciate sopra e si apre un pdf. Questo pdf non è altro che un modulo di diffida intesa a San Paolo Easybank, a chi va inviato ad assistenzareclami intesasampaolo.com oppure tramite PEC. Per chi non sapesse che cos'è una PEC non è altro che una sostituta elettronica della raccomandata con ricevuta di ritorno, quindi la PEC è un mezzo ufficiale, tra virgolette, per parlare digitalmente tra consumatori, aziende, eccetera, eccetera, che hanno valore legale. Quindi, in coppia, autorità, garante, quindi ok. La lettera dice questo, Gentili signori, sottoscritto nome, cliente intesa con conto, numero, che prendete dall'app o dal contratto, chiede espressamente di annullare il trasferimento dei rapporti a mente stati verso Easybank, ripristinando quelli con San Paolo. Mi riservo in ogni caso di recedere il contratto in seguito alla modifica onnilaterale del contratto, nei termini, bla bla bla, e di pretendere tutti gli eventuali danni, anche psicologici, che ne deriveranno. Ok. Quale era il trasferimento dei miei rapporti non sia stato ancora eseguito, vi diffido formalmente dell'attuare un'issimile iniziativa riservandomi il difetto di un'azione legale a tutela dei miei interessi, ritenendovi responsabili di ogni danno e che subirò e dei quali vi considero fin dora responsabili. Resto in attesa di un vostro sollecito riscontro, firma e data. Ritorno sul grande. Questo è il documento, vi lascio il link sotto nella descrizione, come prima striscia di testo troverete il link. Ora, questo modulo varrà, non lo so, io ho già sentito di persone che l'hanno inviato da praticamente 4-5 giorni e non hanno ricevuto ancora una misera risposta. So solo di per certo che, e questo ragazzi è importante, ascoltatemi bene, se volete tornare indietro a San Paolo e siete già in Easy Bank, non è più possibile tornare al vecchio conto, quindi vecchio IBAN, eccetera, eccetera. Per tornare in San Paolo dovete chiudere il conto Easy Bank e aprire un altro conto San Paolo. Che cosa comporta questo? Di nuovo, avere un conto San Paolo, quindi un nuovo IBAN. In ogni caso, il disguido e l'IBAN ci sarà sempre, quindi valutate voi se tornare in intesa San Paolo, oppure, dato che state cambiando comunque IBAN, cambiare completamente banca dopo questa mossa che hanno fatto. Ora, per i passaggi che sono già stati effettuati, non penso che questo modulo abbia valenza. Magari, per i passaggi che verranno effettuati a marzo, tipo nel mio caso, che sono nel ramo d'azienda di marzo, magari, adesso che siamo ancora a ottobre, questo modulo potrebbe avere effetto. Oppure, se siete ancora nel ramo di marzo, quindi che verrete trasferiti a marzo in Easy Bank, cosa fate? Provate a inviare questo modulo. Se non avete risposta, provate a recarvi in filiale e cercare di bloccare tutto quanto. Dato che, comunque, a San Paolo ha già rilasciato, diciamo, delle dichiarazioni dove tranquillizza i clienti, eccetera, eccetera. Quindi, magari, se siete fortunati, riuscite ad andare in filiale, riuscite a bloccare tutto questo processo che si è venuto su a creare. Quindi, ragazzi, questo era quanto. Questo era un piccolo aggiornamento di quello che sono riuscito a scoprire in questa settimana dall'ultimo video. E non è molto, perché alla fine, diciamo, grandi notizie, la notizia è finita in Parlamento, tutte le persone indignate, quella, comunque, morale della favola, al consumatore non è che sia arrivato chissà che grande sostegno, ecco. È da parte di Intesa, non è uscito niente. In Parlamento è venuta fuori la notizia, in Banca d'Italia pure. Comunque, un bordello è venuto fuori. Sono preso, come ho potuto già dire, sia su YouTube che su TikTok, una bella shitstorm, ma, come ho già detto, era prevedibile, perché, comunque, io nel video ho detto, sono d'accordo che le modalità non erano, diciamo, super consone, ma la notizia è arrivata. Tutti cosa hanno detto? Eh, ma una mail poteva essere mandata. Comunque, ho parlato in italiano, ma, quanto pare, non si è capito bene. Quindi, questo, ragazzi, è quello che sono riuscito a tirar fuori. Un modulo, tra virgolette, potrebbe essere ufficiale, non lo so. Provate a inviare, se non volete passare EasyBank, provate a inviarlo. E, ripeto, se siete nel ramo di marzo, provate ad andare anche in filiale. Quindi, ragazzi, questa era la novità che avevo sulla questione Banca Intesa EasyBank. Per il momento penso che possa essere l'ultimo video sulla questione, a meno che non ci siano novità ufficiali da parte della banca, proprio per una guida su come tornare indietro. Allora, sì, ne possiamo riparlare, però per il momento mi sembra che possa andare bene così. E spero che, comunque, questa mini guida su come farsi un attimo sentire, possa esservi tornata utile, se non sapevate di questo file. Comunque, in ogni caso, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ho visto che anche il video di Intesa, anche con quel video, siamo cresciuti un po', quindi, ragazzi, vi ringrazio, vi ringrazio davvero. Se da quel video aspettavate un aggiornamento, questo è stato il caso. Però, ecco, ragazzi, più di questo non sono riuscito a trovare in una settimana. Spero che vi sia, comunque, tornato utile. Se è così stato, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, lasciatemi like ovunque, seguitemi su tutti i miei social network. Io non posso fare altro che salutarvi. Ci vediamo prossimamente con un nuovissimo video. Ciao, ragazzi.